Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 16 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Scorpione. Amore in cantina, ma il resto tiene. Con venere imbronciata in dodicesima casa oggi il cuore scende in cantina, magari per iniziare la propria autoanalisi da lì, il punto più profondo, le radici dell'essere, l'infanzia, i ricordi più lontani, oppure, se volete vederla al negativo, il punto più basso dell'emotività. Qualcosa vi ha contrariati profondamente, un diverbio in famiglia, una delusione sul fronte affettivo, amicizia o amore disattendono i vostri ideali, fino a farvi sentire diversi e anche terribilmente soli, come ribadisce la luna acquariana, malinconica inquadratura. Unico a darvi speranza, si fa per dire, Giove che con qualche parola misteriosa, come nelle antiche formule di magia, vi suggerisce la ricetta per rimettervi in piedi, chi non vi ama non vi merita. Se lui o lei non ha saputo apprezzarvi vuol dire che non era la persona tagliata su misura per voi. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner ma in specie al modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente, fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Alcuni amici potrebbero farvi perdere la pazienza e potreste meditare un loro allontanamento, prima di prendere qualcunque decisione pensateci bene. Anche se Giove sta favorendo la vostra personale situazione economica, un mercurio non certo favorevole consiglia di non avventurarsi in spese eccessive e di salvaguardare il rapporto con tutti. Nuove possibilità di contatti importanti e positivi con finanziarie e banche favoriti da un urano carico di energia, per chi è in procinto o ha l'idea di richiedere un prestito è l'ideale. Si sincero e leale anche con chi pensi che non lo sia, la sincerità ripaga sempre anche se talvolta fa soffrire. Vi verrà offerto un aiuto importante su una questione delicata, sarebbe sciocco non accettarlo. Se siete convinti di farcela anche da soli, cercate di convincervi che necessitate anche di un aiuto esterno. Non è possibile che oggi siate tristi, una notizia, una lieta notizia, potrebbe arrivarvi da un momento all'altro. Chiarite subito con una persona a cui tenete gli asepti di un problema prima che risulti irrisolvibile. Non mancate oggi di rispetto a un vostro parente. Controlla le bollette scadute. Sistema i pagamenti arretrati. Occulto e astrologia ti attireranno particolarmente. Sogni profetici. Fai un po' di yoga. Il mondo va affrontato con coraggio, oggi avrete un'occasione preziosa per mostrare a tutti che non amate nascondervi e sapete assumervi le vostre responsabilità. Con Nettuno splendido, l'intuito che vi guiderà in questa lunedì sarà di tipo quasi medianico. La vostra spiccata sensibilità vi permetterà di aiutare gli amici che si trovano in difficoltà. Se potete entrare in contatto con l'acqua, il vostro elemento di lezione, favoriti da Saturno nei pesci, vi sentirete completamente rinnovati. Terme e saune vi ritemprano e vi fanno ritrovare il benessere. Baciati dalla buona sorte di Plutone e Marte, se siete nati della prima e nella terza decade, vivrete una fase in cui la vostra natura fantasiosa e creativa sarà in primo piano. Dalla serata, userete le risorse segrete nelle situazioni impreviste, dove riuscirete a trovare le soluzioni più opportune e geniali. Malmostosa la luna acquariana in quadratura, poco loquace e disponibile anche giove in gemelli, generoso solo in senso pecuniario, mentre venere imbronciata in dodicesima casa oggi non si fa né vedere né sentire, i sentimenti permangono ermetici, segreti e solo con un'infinita pazienza riuscirete a farvi sussurrare dal partner uno stitico ti amo. Amore ed eros. Innamorati di un sogno, ma il bello della vita è quell'aura romantica e profumata che rende gli occhi brillanti e fa venire voglia di comprarsi qualcosa di nuovo, pavoneggiandosi allo specchio per darsi tono e sentirsi più charmant. Sia che siate in coppia o single, contate su un momento magico. Tutto da dividere con chi vi fa abbattere il cuore. Liberate la vostra capacità di amare, il vostro proverbiale eros, con un alleato d'eccezione amico del vostro segno, Plutone. Il pianeta accende i sensi di chi è nato nella terza decade. Lavoro e denaro. Faccende domestiche, se non c'è tempo si svolgerle nei giorni feriali ci si riduce la lunedì, aggiungeteci anche la spesona settimanale al supermercato e metà di cosiddetto riposo se n'è già andata. Come passerete il pomeriggio? Probabilmente sdraiati sul divano a leggere o a sonnecchiare davanti la tv, nessuna voglia di uscire dalla città o di andarvene in giro a zonzo, magari con una guida turistica sotto il braccio. Dai pesci Saturno positivo, vi aiuta a non farvi sfruttare troppo da colleghi più scaltri di voi, in special modo se siete nati nella seconda decade. Riuscite a schivare un impegno professionale gravoso che vi avrebbe creato non poche seccature, se lavorate pure oggi. Benessere. Scudati contro i grossi guai ma non contro le quisquiglie, a quelle dovete pensarci voi, badando a dove mettete i piedi, per esempio, o dove andate a sbattere la fronte. Digestione laboriosa, ma non a causa del cibo, riguardo a quello siete parchi, piuttosto la causa sono i commensali coi quali siete costretti a consumare il pasto, parenti antipatici o spocchiosi in prima linea. Denaro. Con urano vostro nemico dovrete essere molto attenti a come gestite le vostre risorse. In special modo negli acquisti improvvisati, troppo futili o addirittura frivoli. Specie se nati nella terza decade. Per lei, metà settembre è un sentore d'autunno lontano, la prossima lunedì, infatti, sarà equinozi e voi, precognitivi, certe cose le sentite a pelle. Voglia di migliorie in casa, un nuovo pezzo d'arredamento, un divano dove sprofondare nelle serate umide e fredde, con un libro in mano, una tisana sul comodino, il gatto sulle ginocchia. Per lui, bricole urda alle mani d'oro, qualcosa da fare in casa, qualcosa in giardino, che non vada dimenticato solo perché l'estate va sul finire. Anzi, molto da fare, prime foglie da raccogliere, il prato da tagliare, qualcosa da rinvasare. E quante buone conserve da preparare per chi ha un orto fecondo che offre verdure e frutti di stagione. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, più vinginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 9, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.